lettura del capitolo quarto l'homo novus tratto dal libro l'ultima dea d'occidente saggio sulla razionalità inesorabile pubblicato nel 2018 l'homo novus essi stimano felicità il piacere d'un giorno secondo pietro 2 13 il concetto di homo novus è già in vari modi contenuto nell'escatologia cristiana delle origini anche se con intensio radicalmente diversa dal concetto di homo novus determinato invece dalle perigliose categorie e forme della modernità per molti versi l'homo novus è la rigorosa conseguenza dell'homo detto sapiens ossia di chi ha fatto della clava la legge finale del mondo l'homo novus è l'individuum occidentalis poiché costui è anche il prodotto dell'esplosione delle categorie del materialismo positivismo e pragmatismo nel concetto dell'occidente nella modernità la ragione secunda grazie alla tecnica si pone di fronte al mondo come dispoti cancella dell'egotismo e della volontà di potenza ossia entro la cornice di un atteggiamento radicalmente violentemente antietico e antifilosofico la trasformazione umana invocata dalla cristianità originaria tende al raggiungimento compimento di un individuo razionale probo e morale il cui obiettivo è il miglioramento di sé in un'ottica escatologica un obiettivo che prescindendo dall'escatologia condivide con larga parte del pensiero filosofico antico l'homo novus invece non si pone né propone obiettivi etici ma percepisce l'esistenza unicamente come l'ambito della realizzazione di finalità materiali e della massimizzazione della volontà di potenza rivelando come tale interpretazione del mondo sia in ultima analisi quella di un'arena per l'accrescimento smisurato di un ego sostanzialmente violento e accecato da bisogni e paure l'homo novus è troppo spaventato e impegnato a sopravvivere per poter vivere altrimenti gli individui si rendono colpevoli materialmente o ontologicamente quando si fanno portatori di una non verità che reca impresso in vari modi il marchio della violenza e dell'interesse senza giustizia questa colpevolezza verso se stessi e verso gli altri conduce rapidamente alla dissoluzione della coscienza e supporta il trionfo della violenza e dell'ingiustizia giustificate attraverso il perpetuarsi di questa alleanza dell'empietà che trasforma l'essere umano in un curioso nemico di se stesso nessun'altra specie conosce una malattia dello spirito di tal fatta all'antica domanda sul perché gli esseri umani agiscono nella maniera dissennata violenta aggressiva indifferente e assurda entro cui costringono la loro limitata esistenza si può ancora rispondere perché ad un certo punto decidono volontariamente o immolontariamente di ignorare la morte questa non è una risposta da prendere alla leggera poiché implica che un essere umano capace di intendere accogliere la mortalità sarà arrestio alla violenza all'usurpazione in generale contrario alla tracotanza la iubris degli antichi insegnare dunque dunque questa lezio universalis senza abbandonarsi a rovinose necrofilie significa indicare una via verso l'evoluzione di sé e del vivere sociale una meta ed un'ambizione non da poco di cui il pensiero filosofico ha provato a farsi carico fin dalle origini l'homo novus contemporaneo pare non senta alcun orientamento escatologico autentico ossia diverso dall'utilizzo della religione come superstizione per porsi al centro di ogni universo possibile utilizzando la pseudo religiosità dell'ego a cui secondo costui anche il divino deve chinarsi e sottoporsi i culti egotistici e antropocentrici che proliferano nella modernità sono anche il riflesso tangibile delle voglie e desideri di un individuo che ha posto al centro del mondo iubris e dimenticanza di sé anime piccole a cavallo di un ego smisurato l'homo novus contemporaneo crede fermamente nella centralità del vacuum nella sola funzione esistentiva e nel paralogismo quali epitomi del reale di ogni reale e prova a convincersi e convincere attraverso la persuasione e la corruzione di qualunque immagine che questo vuoto gli lascia credere di poter arbitrariamente proiettare sul mondo e sulle cose un individuo ammaliato dalle proprie feci e urine sulle quali stacchino e prono come se queste contenessero un mistero elevatissimo e sublime questo conflitto tra le determinazioni della volontà e le sue velleità epistemiche ed una ragione scevra da tali contenuti attribuzioni egotistiche ha origini che si smarriscono nella storia ma la formulazione più chiara di questa dicotomia la si ha proprio nella contrapposizione tra la sofistica ed il pensiero socratico platonico i sofisti sono anche i primi a vedere l'essere umano come mera fiusis mera natura pura cosalità gente se per i sofisti la ragione è mero strumento di convincimento poiché è da questi intesa unicamente nella veste della persuasione per il pensiero socratico platonico l'obiettivo del pensiero è invece il perseguimento del bene il to agaton attraverso il conseguimento primario di una conoscenza indirizzata alla chiarificazione del to agaton due posizioni antitetiche che rivelano come tali visioni contrapposte non possano neppure darsi sotto uno stesso nome platone infatti troverà non soltanto la feconda bipartizione tra idea ed opinione per evidenziare smascherare la debolezza epistemica della dottrina sofistica ma dimostrerà anche l'insussistenza etica di questa ed il suo condurre ad un'infelicità esistenziale profonda anche se non immediatamente evidente oltre ad essere contrastanti le diverse posizioni tra l'insegnamento platonico e la dottrina sofistica manifestano implicitamente anche l'esistenza di due ragioni una ragione prima ed una ragione seconda alcuni studiosi vedranno poi il trionfare della sofistica e della ragione seconda che questa esprime in massimo grado come una reazione tra virgolette del pensiero comune pronto a ribellarsi per riaffermare tutto il valore della sua passionalità e ciò fecero i sofisti e ciò spiega il loro grande successo chiuse virgolette con l'avvento della sofistica si è così passati dalla parola vera dell'origine il logos il discorso vero che dirime ogni contraddizione alla dialettica tra episteme e doxa per giungere fino ai dissoi logoi i ragionamenti duplici sofistici nei quali almeno secondo l'intento non si dovrebbe più riuscire a riconoscere un discorso vero questa dissoluzione del discorso vero trova la sua apoteosi nella modernità in cui si ritiene di essere riusciti a soppiantare il contenuto delle idee autentiche attraverso la moltitudine delle opinioni il proliferare globale della doxa fornisce anche una vidimazione politica e la possibilità di un camuffamento ideologico alla vulgata pseudo culturale dettata da uno stato controllato da oligarchie o all'imposizione diretta o indiretta di dettami autoritari nel contesto del grigio solipsismo cognitivo dalla nostra epoca le idee vengono trattate in larga parte come un gusto a me piace questo ed a te piace quest'altro sancendo così il trionfo sociale politico degli individui dell'opinione i doxa in antropoli il solipsismo cognitivo è quello che dichiara a me piace il maraschino dunque è per questo il liquore più buono del mondo questo trasforma tutto nella contorta massima secondo cui non è giusto ciò che è secondo giustizia ma quel che a me piace o pare la mentalità del tiranno o ciò che si ritiene giusto per me questo solipsismo cognitivo caratteristico e determinante della sofistica rappresenta la disintegrazione della conoscenza autentica e allo stesso tempo una gabbia in cui l'essere umano rinchiude se stesso una cella minuscola e micragnosa da cui non si scorge altro dalle proiezioni e riverberi dell'ego sul mondo e anche in tal senso che l'ego si rivela come una malattia mortale che kirkegaard identificherà con la disperazione evidente che ogni individualità è un centro di percezione ma trasformare questo punto privilegiato in una centralità assoluta significa radicalizzare l'io e la volontà oltremisura ritraendosi dall'umanità condivisa per dirigersi verso uno psicologismo solipsista in cui si riconosce legittimità epistemica unicamente alla propria volizione dalla percezione la quale per sua propria natura come aveva ben ammonito platone contiene tutti i difetti del mondo tramite una lunga serie di stratagemmi architettati da astuti persuasori a servizio di alcuni si è poi ottenuta anche la summenzionata nullificazione delle idee attraverso la moltitudine delle opinioni e le presunte tra virgolette evidenze di cui tanto simillanta nei mezzi di comunicazione di massa nelle accademie o nei vari altri circoli di potere non devono necessariamente possedere una validità epistemica autentica perché la loro presunta forza viene sottilmente imposta dalla sequenza ideologica in cui tali discorsi vengono incasellati e dalla mera ripetizione nelle sedi sociali e mediatiche questo rende possibile non soltanto qualunque aberrazione ma favorisce spaventosamente coloro i quali utilizzano tale confusione per sottomettere elementi degli esseri umani e dominarli politicamente senza apparentemente costringerli nonostante la parvenza conoscitiva il primo scopo della sofistica è sempre politico quando il pensiero e il vivere civile si trasformano in una mera questione di interpretazione questa situazione rappresenta il trionfo assoluto della sofistica lo scopo del sofista è politico non inconoscitivo poiché egli mira alla dissoluzione del reale a favore dell'argomentazione sofistica così da poter determinare il reale tra virgolette secondo le imposizioni dell'arbitrio che egli o i suoi mandanti vogliono imprimervi il sofista è sempre sotto ogni cielo uno stolto che parla ad altri stolti complici o ingenui tra virgolette colui che si disperde nella moltitudine ne torna crivellato di ferite chiuse virgolette dirà san nilo abate la ragione secunda dimostra la sua debolezza già dal fatto che si tratta di una tra virgolette ragione che si regge sulla moltitudine rivelando già qui il suo carattere sofistico e distruttivo il popolo è la cosa più instabile e più incerta tra tutte dirà dimostra nelle orazioni la ragione che apre percorsi ed aiuta a scoprire e intendere non mirando alla mera persuasione attraverso la retorica è invece una ragione regale che serve quale colonna e fondamento della verità come nel titolo del libro di paul florensky e contiene tra le sue categorie anche quella leccio secondo cui è possibile una maggioranza di uno la diffusione della sofistica produce l'indebolimento ed il ritrarsi della ragione prima favorendo in e o in epoche di degenerazione accelerando la mutazione o per meglio dire la mistificazione della ragione prima con la ragione seconda platone aveva già insegnato che la conoscenza si trasforma nel male se il suo obiettivo non è la virtù l'homo novus soggiogato dalla potenza grave dell'ineluttabile viene consegnato al mondo incatenato mani e piedi in un gioco in un gioco che egli ormai percepisce come la sola misura di libertà la robotica ad esempio prende in prestito il concetto di libertà dalla logica e definisce i movimenti possibili di un braccio meccanico come gradi di libertà così un movimento verso l'alto è appena un grado di libertà in una direzione possibile ossia la libertà consentita dall'algoritmo che determina il movimento e dalle costrizioni di meccanica e materia oltre a tali restrizioni materiali e dalle determinazioni logiche scandite dall'algoritmo non ci sono altri gradi di libertà possibili l'individuo stesso sembra diventato parte di un progetto che non ammette altro da sé dove i soli gradi di libertà possibili sono quelli consentiti dalla materia e da questa ragione mai sazia di cosa è fatta mentre tra virgolette dalla parte dell'eterno perché c'è un sì un sì transitorio se volete ma un sì come scriverà anche franz rosenzweig il sì è l'inizio il no non può essere inizio persino la pulsione di morte analizzata dalla psicoanalisi attraverso il setaccio della ragione analitica si mostra come un altro tentativo di cristallizzare il mondo entro uno schema rigido a cadaver in cui la pulsione di vita e quella di morte diventano elementi di uno stesso tallero vita e morte non giocano più qui un istancabile partita a scacchi ma senza potersi più guardare stanno adesso spalla contro spalla la ragione seconda si presenta in apparenza come il più possente antidoto al dolore del mondo la cui cifra ultima è proprio la morte dalla quale assume contraddittoriamente il saio dell'ineluttabilità quando la ragione assume i caratteri dell'ineluttabilità per applicarli altrove prendendo questa caratteristica in prestito dalla morte sembra allora emergere come potente esorcismo proprio contro la nera sorella e non si mostra appieno nella configurazione assunta di consorella della morte ossia di colei che accompagna le logiche della morte fin dentro la vita l'unica forza che nel cosmo si era fino ad ora opposta alla morte infondendo nell'universo una forza miracolosa è fondamentalmente incomprensibile che lascia emergere l'animato dall'inanimato la vita in virtù del proprio straordinario sorgere e continuo rinnovarsi è naturalmente contraria all'ineluttabilità della materia inerte l'esistenza umana escogitando una potenza che appare capace di opporsi alla morte sembra possieda adesso uno strumento anch'esso ineluttabile che si ritiene libera di adattare di imporre al mondo non a caso alcuni narrono dell'illusione contemporanea secondo cui in un giorno a venire la scienza figlioletta della ragione sarà follemente in grado di affrancarci materialmente dalla morte il chiaro emergere del vecchio delirio di onnipotenza che si contrappone alla verità ultima dell'esistere grazie a tutti